Vedi, saper qualificare i tuoi prospect con le giuste domande è una competenza fondamentale se vuoi diventare molto bravo o brava a chiudere. Nel mio programma Da Venditor a Closer ti insegno esattamente come fare. Trovi il link qui sopra o qui sotto. Che cosa fa un semplice venditore? E forse è l'errore che stai facendo anche tu. Invia o presenta la sua proposta commerciale senza aver ricevuto alcune necessarie conferme da parte del proprio interlocutore e 8-9 volte su 10 la risposta che riceve è Urca, è più di quanto pensavo di spendere. Vendita persa.